L'impatto dai primi dati e dalle prime estrapolazioni che abbiamo fatto proprio alla fine dell'anno sono molto molto preoccupanti, tant'è che il bacino dei disoccupati al centro per l'impiego di Pesole è passato da circa 10.300 iscritti a 11.003, 11.004, quindi un migliaio di disoccupati iscritti in più. Ma quello che preoccupa maggiormente è il calo dei contratti, non tanto il numero dei lavori, perché ovviamente ogni lavoratore, soprattutto nei tempi determinati, potrebbe aver attivato più contratti. In un anno abbiamo perso più di 4.000 contratti e questa è una situazione ovviamente preoccupata, considerando anche il fatto che almeno fino a questo momento, diciamo almeno fino a marzo, sono alla fine di marzo ancora abbiamo il blocco dei licenziamenti e ancora molte persone possono usufruire della cassa integrazione. Il target più colpito è quello giovanile e le donne sono quelle che hanno avuto il maggior numero di iscrizioni. L'altro dato importante è che il decremento dei contratti è in realtà dovuto essenzialmente ai tempi determinati che non sono stati rinnovati e c'è anche un crollo del lavoro somministrato. Quindi questo ovviamente ci fa preoccupare molto, soprattutto se per caso non dovesse ripartire la stagione turistica, perché la stagione turistica storicamente per Presero ha rappresentato, lasciatomelo dire, mettendole fra virgolette, una specie di ammortizzatore sociale, nel senso è il settore dove molti disoccupati in qualche modo hanno sempre storicamente trovato un'opportunità lavorativa che ristorava il loro reddito. E' chiaro che se per caso, per i motivi legati al Covid, la stagione non dovesse ripartire, la situazione si farebbe veramente molto, molto pesante, sia per i dati occupazionali, ma probabilmente ci sarà una caduta su tutto il tessuto economico della città e anche dei nostri servizi sociali. Perché poi è chiaro che ci sono delle famiglie, ci potrebbero essere delle conseguenze abbastanza pesanti. Devo dire che in questi giorni sto notando che il settore alberghiero, turistico, commerciale non sta con le mani in mano, perché incominciano già a cercare personale. Quindi evidentemente comunque si stanno muovendo nella speranza che poi ci sia in qualche modo un'apertura. Ecco, rimaniamo fiduciosi perché comunque bisogna anche esprimere ottimismo e speranza.